Ora mi ricordo dove ho visto Padre Garzia. Fu a un seminario che organizzarono degli imprenditori. Ricordo che tenne un discorso sulla povertà. Beh, sai, Padre Garzia è un gesuita. Basta guardare la sua faccia da ricco colpevole. Ma colpevole di cosa, dico io? E poi, se non ci fossero più i poveri, non ci sarebbero più santi. E questo sarebbe tremendo. Ci sono sempre stati poveri. Ora vogliono cambiare la chiesa. Ha più di duemila anni, è sempre stata così. A me piace così com'è. La chiesa di Dio è una sola. Amela. Questo Garzia è venuto per fregarci. È così. La chiesa se ne lava le mani e noi faremo la fine dei capri espiatori. Vogliono soltanto farci fuori. Solo questo. Ricorda le mie parole.